e buongiorno buongiorno a tutti direi che possiamo iniziare manca ancora qualcuno ma si aggiungerà poi nel corso allora e per chi non mi conosce io mi chiamo alessandro marchi sono l'amministratore di qua informatica e faccio questa brevissima introduzione solo pochi secondi per ringraziare ovviamente tutti i partecipanti e sia quelli in presenza che quelli da remoto e l'incontro di oggi fa parte di una serie di approfondimenti di incontri di approfondimento che stiamo organizzando assieme a gli specialisti del mondo zucchetti su argomenti specifici oggi in particolare ci occupiamo di tesoreria assieme ad enrica manfredini e grazia luparello di doc finance che fra un po vi illustreranno il tutto prima la di passare alla parola di enrique grazia verrai però presentarvi l'area manager di zucchetti e aldo pili che qua di fianco a me che abbiamo il piacere di avere oggi qui con noi e quindi non è così frequente di avere la zucchetti qua con noi quindi gli lascio solo la parola qualche istante anche lui per la piccola presentazione grazie alessandro buongiorno a tutti giusto per ringraziare alessandro che sempre gentilissimo e coi che sono sempre molto ospitali volevo soltanto dire che zucchetti sta cercando di dare maggiore visibilità al canale quindi ai propri partner e sta cercando anche di segmentare quelli che sono i partner della propria rete coinformatica da poco è diventata top partner per il mercato erp e quindi è un partner che per noi è estremamente importante proprio perché riesce a esprimere tanti dei nostri prodotti e soprattutto riesce a esprimerli in maniera molto convincente e positiva quindi non rubo altro tempo e lascio la parola alle colleghe di doc finance grazie ok allora vi ringrazio anch'io e a questo punto enrique grazia lascio la parola a voi grazie mille grazie alessandro buongiorno a tutti mi presento sono enrique manfredini vedete solo me ma qua di fianco a me o forse devo togliere siamo in tre rappresentanti di doc finance io insieme a grazia giuseppe e il nostro ruolo oggi è quello di presentarvi la nostra soluzione di tesoreria vado a condividere lo schermo in modo da mostrarvi ce l'abbiamo qua sotto allarghiamo e allora è la mia presentazione si svolgerà in questo modo comincerò col introdurre l'argomento attraverso alcune slide per poi mostrarvi direttamente programma perché sono abituata proprio a mostrare proprio come funziona quindi intanto una piccola premessa su chi siamo e la società doc finance è una società attiva da oltre 25 anni si può dire ormai 30 anni ci occupiamo di tesoreria e abbiamo raggiunto un numero di aziende elevatissimo cioè doc finance è sicuramente software di tesoreria più diffuso in italia abbiamo 20 oltre 20 mila aziende utilizzatrici diciamo che consideriamo alcune migliaia di installazioni attive ma spesso i nostri progetti sono multi aziendali per cui a fronte di quasi 4 mila installazioni in realtà ci sono più di 20 mila aziende che utilizzano il nostro software quotidianamente i numeri non li dico semplicemente per dire quanto siamo bravi ma per dire che siccome abbiamo fatto una scelta ben precisa già 25 anni fa di realizzare una soluzione standard e non realizzare personalizzazioni questo significa che man mano che aumentano che sono aumentati negli anni i nostri clienti sono aumentati anche le necessità le richieste le particolarità e tutto quello che è stato sviluppato introdotto migliorato nel software è stato distribuito in maniera automatica quindi tutti i nostri clienti grandi piccoli con tanti debiti o tanta liquidità hanno tutti la stessa versione del programma chi acquista doc finance acquista doc finance versione attuale e man mano che noi miglioriamo il software con delle personalizzazioni delle migliorie le distribuiamo in automatico a tutti i nostri clienti e l'altro aspetto di doc finance è il fatto di poter essere integrato collegato con vari si può dire tutti i sistemi erp ne abbiamo contato diverse centinaia ma sicuramente tra questi l'accordo forte che abbiamo col mondo zucchetti ha permesso di rendere tutto veramente semplice facile pronto per essere utilizzato quindi le integrazioni con con il col vostro ip con la soluzione zucchetti è già pronta ampiamente collaudata garantita dal mondo zucchetti quindi stiamo parlando di un software che si installa si configura e dopo la prima giornata di configurazione è già attivo operativo stiamo parlando però di una soluzione separata da doc quindi un modo diverso di lavorare ma perfettamente integrato una precisazione su sempre su di noi doc finance è il nome della società ma è anche il nome ed è anche il nome del prodotto della soluzione di tesoreria che presentiamo oggi preciso però che abbiamo anche un'altra soluzione che si chiama doc credit sviluppata sempre da noi non facciamo altro quindi ci occupiamo di questo e doc credit è un programma specifico per la gestione dei crediti verso clienti che proponiamo suggeriamo in aggiunta a doc finance quindi si parte comunque dalla tesoreria e oggi parleremo di tesoreria ma in alcuni casi alcuni nostri clienti hanno necessità anche del doc credit per una gestione più snella più veloce e ottimizzata della gestione dei crediti verso clienti per le anni chi ha centinaia se non migliaia di posizioni aperte da sollecitare gestire e quindi analizzare quindi quando c'è una gestione del credito importante se invece la vostra attività riguarda magari centinaia di clienti 200 clienti ma magari solo una decina hanno il problema di non rispettare i termini di pagamento quei 10 clienti si possono gestire anche manualmente se comincio ad avere centinaia di posizioni da gestire sicuramente il doc credit fornisce un grandissimo aiuto invece la tesoreria la tesoreria doc finance è una soluzione che noi proponiamo alla si può dire totalità di aziende perché qualsiasi azienda a che fare con le banche in cassa paga delle attività con il sistema bancario e quindi laddove c'è un minimo di volume di operazione anche solo più di una banca o comunque una certa numerosità di registrazione da fare quotidianamente la tesoreria è sicuramente uno strumento che aiuta aiuta nella gestione quotidiana quindi sicuramente l'attività quotidiana un punto di forza di doc finance è quello che vi semplifichiamo la vita facendo risparmiare un sacco di tempo e quelle che sono le registrazioni o la creazione delle distinte insomma a cui vedremo ma anche quando parliamo di tesoreria parliamo di pianificazione finanziaria quindi immagino che molti di voi utilizzino dei fogli excel oltre al sistema contabile il sistema di home banking perché quando parliamo di veramente di tesoreria di saldi di come sto andando e di dove ho la disponibilità o quali sono i miei affidamenti tutte queste informazioni le trovi sempre riportate su full excel quindi la pianificazione finanziaria quando si parla di pianificazione non si intende necessariamente qualcosa che richiede chissà quali diciamo analisi sofisticate ma parliamo di mettere insieme i dati in maniera più automatica possibile avere la situazione pronta per essere analizzata e questo grazie alla nostra esperienza insomma quello che abbiamo introdotto nel software e grazie soprattutto un'integrazione forte sia col sistema erpi quindi col vostro sistema contabile che è un'integrazione col sistema di home banking quindi doc finance si colloca sostanzialmente al centro noi l'abbiamo collocata al centro tra il sistema bancario e sistemi erpi e in che modo beh col sistema contabile con zucchetti vi ho già detto che abbiamo un'integrazione un connettore che è perfettamente funzionante ampiamente collaudato e pronto per essere utilizzato cosa prevede questo connettore prevede che sostanzialmente dalla contabilità vengano esportati trasmessi ad hoc finance in maniera automatica tutte le anagrafiche dei clienti dei fornitori piano dei conti quindi immaginate tutto il tutte le vostre anagrafiche no cioè che ci sono per forza di cose in contabilità vengono trasferite in maniera automatica senza che voi facciate nulla all'interno della tesoria così come viene trasferito tutto lo scadenzario dei clienti e quindi tutte le partite aperte chiamiamole così da incassare da pagare tutto quello che voi dovete ancora pagare i fornitori quello che dovete incassare dai clienti che si tratti di scaduto o a scadere viene trasmesso in doc finance in maniera automatica e quindi questo è già il punto di partenza allo scadenzario gli impegni spesso se vogliamo arrivare a delle analisi previsionali non basta il sistema lo scadenzario del sistema contabile ma possiamo acquisire ed è utile acquisire importare anche lo scadenzario degli ordini e volga cioè tutto il ciclo attivo e passivo laddove è gestito quindi io inserisco l'ordine al fornitore ovviamente se lo inserisco se ci sono gli ordini gestiti nel sistema già nel momento in cui inserisco un ordine di fatto ho un un impegno finanziario futuro quindi se io riesco ad avere tutte queste informazioni in maniera automatica io ho già una previsione delle mie uscite future a partire dall'ordine fornitore poi merci in consegno merci consegnata o fatture messe o fattura ricevuta quindi e questo vale sia per il ciclo attivo ciclo passivo qua possiamo discutere c'è chi dice gli ordini sì gli ordini clienti no insomma dopo l'importante sapere che lo strumento permette di ricevere in automatico tutte queste informazioni poi dopo a seconda della vostra gestione della vostra operatività sarà utile avere questi dati saranno affidabili saranno completi oppure no però intanto si può partire da quello tutta l'operatività poi ecco faccio un'altra precisazione ho indicato in due frecce separate perché abbiamo anche clienti che hanno ad hoc come sistema contabile ma magari hanno il ciclo gestionale per la produzione o per gli acquisti per gli ordini che è diverso da doc quindi questo non è un limite per noi perché possiamo tranquillamente acquisire lo scadenzario anche da altri sistemi che non siano che non sia doc ok tutte queste informazioni vengono trasmesse doc finance doc finance sarà lo strumento da utilizzare per l'operatività quotidiana quindi parliamo di pagamenti incassi le registrazioni che riguarda le banche e questo perché doc finance sta arrivando un'ultima persona buongiorno buongiorno per chi è collegato da casa stiamo abbiamo interrotto un attimino perché sono arrivate altre persone qua in sala buongiorno a tutti stavo illustrando un po' lo schema di come collochiamo come diciamo come vediamo doc finance doc finance lo vediamo al centro siccome è uno strumento di tesoria quindi tesoria gestione delle banche gestione finanziaria dell'azienda deve dialogare da un lato col sistema IRP sistema contabile dall'altro col sistema bancario dalla contabilità ovvero da ad hoc riceviamo in automatico anagrafiche scadenze e riceviamo anche tutto lo scadenzario degli ordini e bolle se sono gestiti su ad hoc se sono gestiti su un altro sistema a seconda dei casi vediamo se c'è già l'integrazione o se è da fare insomma comunque riceviamo i dati tutto quello che queste informazioni che passano doc finance serviranno sia ai fini previsionali per avere sempre un anziché un foglio excel avere delle analisi pronte in doc finance con tutti gli impegni derivanti dall'IRP ma anche per gestire l'operatività quindi incassi pagamenti parlo proprio delle registrazioni contabili che oggi le fatte in contabilità dopo sparirà la registrazione contabile in contabilità perché tutto verrà gestito dalla tesoreria con tante funzioni che permettono di automatizzare la maggior parte delle registrazioni che voi oggi fatte a mano quindi con un risparmio di tempo notevole nella gestione delle banche perché vedremo gli automatismi che abbiamo introdotto quindi la freccetta che voi vedete verde mi dice che praticamente la prima nota banca cioè le registrazioni in contabilità delle banche non si faranno più in contabilità ma tutto nasce in tesoreria la tesoreria trasmette la contabilità a scritture contabili definitive già controllate possibilmente fatte anche in automatico così voi vi bevete caffè con calma al mattino se il programma fa il resto l'altro aspetto invece è l'integrazione con le banche con l'on banking perché ovviamente se io dico passo in contabilità delle registrazioni in automatico le passo in contabilità già definitive controllate come? perché una buona base di dati mi arriva dalla banca dall'on banking quindi i dati che io ricevo dall'on banking vengono elaborati in tesoreria nel momento in cui io ricevo tutte le righe di estratto conto queste righe mi servono per o fare delle registrazioni tipicamente il bonifico che mi arriva dal cliente oppure per verificare altre registrazioni che ha già fatto la tesoria ben prima di quello che vedi in banca c'è l'esempio di un mutuo se io ho un mutuo gestisco un mutuo in tesoreria mi creo già il mio piano di ammortamento quando arriva l'addebito della rata lo sapevo già e avevo già creato in automatico il movimento nel momento in cui ho inserito il mutuo quindi non me ne dimentico più quindi i movimenti di un banking vengono usati o per registrare quello che non ho ancora previsto o per controllare quello che è già stato creato in automatico dalla tesoreria e che però deve essere controllato per diventare movimento definitivo quindi fondamentali dati dall'on banking così come l'altro aspetto fondamentale la possibilità di creare direttamente da Doc Finance le distinte che voi oggi inviate in banca con l'on banking immagino che molti di voi ad esempio i pagamenti ai fornitori li facciate direttamente nell'on banking avendo duplicato le anagrafiche ai fornitori inserimento manuale del bonifico registrazione manuale in contabilità ecco questo modo di lavorare viene semplificato con Doc Finance perché Doc Finance avendo la disponibilità avendo tutto lo scadenzario vi dà la possibilità di scegliere semplicemente le fatture da pagare creiamo la distinta la mandiamo in banca attraverso l'on banking perché il collegamento con l'on banking che qua è bidirezionale ma mentre creo la distinta di fatto l'ho anche già registrata perché dopo ho già tutti i collegamenti se avete domande ma il discorso dell'on bank sì perché ognuno di noi avrà un suo on bank immagino quindi in questo caso per usare Doc Finance dobbiamo avvitare giusta domanda giusta domanda allora noi Doc Finance dialoga con qualsiasi on banking standard CBI quindi i classici on banking per le aziende perché l'on banking magari per il privato non ha le funzioni di scambio dati che ha l'on banking per le aziende quindi immagino che tutti gli on banking che voi state utilizzando siano in qualche modo collegabili a Doc Finance quello che noi consigliamo però è prima di tutto possibilmente di non averne 10 perché se voi avete 10 banche e 10 internet banking con 10 chiavette eccetera se dobbiamo collegarne 10 il rischio è che si perda più tempo nei collegamenti che non nelle registrazioni quindi sicuramente quello che noi consigliamo è di avere un unico on banking multibanca che colleghiamo a Doc Finance poi lì si apre un capitolo nel senso che gli on banking sono tutti uguali fanno tutti le stesse cose ma non tutti sono evoluti moderni allo stesso modo quindi cosa significa? che alcune banche hanno degli on banking che hanno anche degli scudelatori delle procedure che in maniera completamente automatica dialogano con Doc Finance altri on banking di altre banche sono un po' più scomodi nel senso che non permettono ad esempio uno scambio automatico ma manualmente ogni giorno bisogna trasferire le distinto o importare i movimenti stiamo parlando di due passaggi niente di che però è giusto che voi sappiate che ci sono non tutti gli on banking sono uguali sono collegabili nello stesso modo non dipende da noi ma dipende da come è fatto il servizio della banca e siccome a noi piacciono gli automatismi e puntiamo a rendere tutto il più snello, più veloce più semplice possibile per chi lo deve utilizzare sicuramente ci è capitato tante volte di suggerire all'azienda la sostituzione di quell'on banking con un altro più semplice da utilizzare questo non significa cioè adesso apro e chiudo la parentesi nel senso che caso per caso si vedrà di cosa stiamo parlando ma vi assicuro che nella maggior parte dei casi vanno bene quelli che utilizzate oppure c'è una possibilità che noi abbiamo realizzato diciamo dentro a Doc Finance anche un servizio di on banking cosa significa? non siamo una banca non facciamo parte del sistema bancario ma abbiamo una collaborazione storica con una banca che ci permette di far utilizzare i nostri clienti Doc Finance anche come on banking attivando un servizio attivo con quella banca anche senza l'apertura di conti non vi nomino la banca dico c'è questa banca che fa da connettore non è obbligatorio avere i conti magari chi di voi lavora già con quella banca tanto meglio se non è una vostra banca non è necessario aprire il conto corrente perché comunque può fornire il servizio senza diventano tutte banche passive ecco se non avete diventa banca attiva anche senza conto quello è sicuramente il servizio più apprezzato dei nostri clienti perché cioè quelli che usano quel servizio lì non avranno mai problemi di scambio dati quindi lì è tutto molto usano veramente Doc Finance anche come on banking appunto fanno tutto da lì gli altri on banking c'è sono alcuni che funzionano benissimo e altri un po' meno questi aggiungo solo che è comunque una valutazione che si fa durante il processo di avviamento di Doc Finance quindi prima giornata ok lavoro con queste banche capiamo un attimo qual è la banca con cui poter schedulare al meglio Doc Finance se tra le banche non ci fosse nessuna che fa il caso nostro potremmo prendere la strada dell'on banking integrato che è un po' più semplice perché firmi da lì scarichi da lì fai tutto da lì e non entri in un'ulteriore pagina web come fate oggi per firmare e per scaricare i movimenti se l'azienda dice guarda non voglio la banca integrata in Doc Finance voglio rimanere su Viper Cariparma quel che sia ok hai in più un passaggio di file quando firmi è quando la mattina bisogna scaricare tutti i movimenti bancari è un passaggio di file in più punto però è un processo comunque che si capisce nel corso del progetto direi esatto esatto tra l'altro è un passaggio che probabilmente già voi molti di voi già fanno ad esempio per le distinte riba distinte riba distinte riba dei clienti se voi create la distinta dal sistema di contabilità poi importate il file nell'homebank lo firmate quindi non lo inserite nell'homebank lo importate per trasmetterlo in banca è lo stesso concetto se non è completamente integrato se c'è un trasferimento manuale stiamo parlando di questo creo un file importo un file se possiamo eliminarlo ancora meglio non c'è neanche più questo passaggio da fare ultima si può dire slide prima di andare a vedere esattamente il programma come funziona se avete altre domande nessuna domanda bene in sintesi un po' quello che vi ho raccontato adesso cioè l'obiettivo di Doc Finance è sicuramente quello di avere la situazione delle banche aggiornate e soprattutto una previsione dei saldi quello che voi oggi che molte aziende fanno con foglie Excel ma significa anche automatizzare tutta l'area dei pagamenti degli incassi con delle procedure che semplificano riconciliazione automatica delle banche contabilità aggiornata in automatico è vero lo fa cioè togliamo del lavoro e poi tutto quello che è più di analisi cioè il controllo del cash flow previsionale costruttivo ma soprattutto il controllo delle condizioni applicate dalle banche qua entriamo sulla parte più di tesoreria specifica cioè le commissioni gli interessi i tassi che le banche vi applicano probabilmente voi li controllate a campione oppure li controllate a tappeto comunque è un controllo che potete fare attualmente solo manualmente ma che con Doc Finance si può invece veramente automatizzare automatizzare il controllo vuol dire non mi sfugge più nulla cioè ogni addebito effettuato da qualsiasi banca che si tratta di commissione di interessi viene proprio controllato dal programma l'unico onere è quello di inserire le condizioni perché ovviamente il Doc Finance non può sapere cosa avete concordato con le banche ma nel momento in cui vengono inserite le condizioni sarà il programma a creare gli addebiti previsti presento una distinta riba con quella banca ho una determinata commissione ogni volta che presento la distinta riba il programma mi crea già l'addebito previsto delle commissioni un movimento preciso di addebito mi arriva il movimento dall'onbank viene controllato in automatico riconciliazione automatica se corrisponde va direttamente in contabilità senza che io non faccia nulla non corrisponde mi viene segnalato io mi accorgo quindi immediatamente che la banca non ha rispettato le condizioni correggo prendo atto correggo e comunque poi aggiungo la contabilità quindi è un controllo che viene applicato e che mi permette anche di evitare tutte le registrazioni perché le registrazioni me le trovo in automatico e poi ovviamente un controllo e una gestione di tutte le linee di credito a breve e medio e lungo termine quindi sa buon fine anticipi fatture factor fin import mutui leasing derivati cioè le varie forme di affidamento di utilizzo dei fidi con gli istituti di credito programma programma è multibanca ovviamente quindi tutte le banche tutte le linee di credito multi utente quindi magari c'è chi fa la registrazione perché uno dice ma io uso l'onbank il mio collega fa le registrazioni in contabilità ecco Doc Finance può essere usato da più utenti in contemporanea ci saranno profili di accesso diversi quindi un conto è chi prepara distinto un conto è chi registra l'incasso oppure è sempre la stessa persona dipende dal profilo non ci sono limiti quindi tutte le persone oppure c'è il titolare che accede per guardare direttamente la situazione delle banche quindi più utenti e anche più aziende multi aziendale quindi avete 3, 2, 3, 4 società possono essere gestite indipendentemente se queste aziende hanno tutte lo stesso sistema contabile oppure no possono essere gestite tutte quante e permettervi quindi di avere una visione della tesorria accentrata cioè una gestione una visualizzazione di tutti i saldi di tutte le banche di tutte le aziende mi fermo qua semplicemente per dirvi che vantaggi sono tanti quindi tanti vantaggi operativi tanto risparmio di tempo e controllo condizioni e vantaggi strategici chiudo le slide e vado sul programma arrivo ammetti tra di voi c'è anche una persona che ha usato casualmente che ha usato Doc Finance quindi può confermare spero che è quello che ho detto sì ah ok non sto raccontando ok non l'abbiamo pagata di sua spontaneità ok vediamo invece Doc Finance il programma eccolo qua e allora in questa versione che è l'ultima versione disponibile poi in futuro cambierà ma perché noi siamo in continua in continuo sviluppo e vediamo quello che è il menu principale che è questo con delle mattonelle colorate che hanno la finalità di ricordarmi e di mostrarmi direttamente quello che devo fare quello che non quello che mi è arrivato dalla banca ad esempio se ho delle registrazioni dei movimenti da riconciliare quindi 38 righe di estratto conto arrivate dalla banca che devo controllare o di questi 38 adesso non so se riuscite a leggere bene di questi 38 ci sono 15 movimenti che sono arrivati che devo registrare quindi sono tipicamente i bonifici che arrivano dai clienti o gli addebiti rid quindi quei movimenti che non ho disposto io che non ho creato anticipatamente perché aspetto di vederli in banca per registrarli mentre tutti gli altri spesso sono movimenti che dipendono da derivano da qualcosa che io ho inviato in banca cioè la distinta arriva distinta di bonifico il pagamento il girofondo i mutui i finanziamenti sono tutti movimenti che posso già prevedere prima ancora di vederli in banca queste due questi movimenti che sono arrivati in docfinance dicevo prima sono arrivati dall'onbanking quindi come sono arrivati beh se ho l'onbanking attivo quello proprio di docfinance è sufficiente cliccare su connessione questa ma non è clicco qua mi collego al sistema bancario scarico i dati e me li ritrovo se non ho se ho l'onbanking YY probabilmente dovrò aprire l'onbanking esportare un scarica dati e da qua dico acquisisco i movimenti ok niente di complicato semplicemente bisogna aprire l'onbanking se l'onbanking è uno di quelli più evoluti che ha uno schedulatore non faccio neanche quel passaggio lì comunque insomma ci sono in un modo o in un altro con un click o due click ricevo tutti i movimenti movimenti che posso analizzare direttamente magari vediamo cosa sono questi 15 movimenti che il programma mi dice che sono da inserire ecco qua indipendentemente se sono sull'azienda A, B, C o se sono sulla banca Credem Banca Piacenza o Bipper io vedo esattamente i movimenti i bonifici ad esempio in questo caso che ho ricevuto quindi tutti i bonifici dei clienti con la nota con gli importi ecco come facciamo la registrazione dei bonifici due modi o in automatico tentiamo o manualmente automatico significa che il programma leggendo il dato dell'onbanking e leggendo il campo notte cerca di individuare automaticamente chi è il cliente che ha pagato e cosa ha pagato vi ricordate che riceviamo qua dentro tutto lo scadenzario quindi tutti i clienti e tutto lo scadenzario non ce ne preoccupiamo lo fa la notte ad hoc aggiorna doc finance quindi bene ho ricevuto questi incassi il programma va a verificare se trova di questi incassi intanto vedete che la lista è diminuita perché 8 di quelli presenti nella lista sono stati registrati automaticamente da doc finance in che modo beh qua mi vengono mostrati per sicurezza mi fido di quello che fa il programma voglio dare un'occhiata cosa è riuscito a fare beh qua scorrendo uno a uno io vedo esattamente cosa mi ha abbinato quindi partiamo dall'ultima riga questo sono 528 euro arrivati in banca questa è la nota dell'onbanking del movimento CB e sotto c'è la fattura la scadenza che il programma ha individuato quindi ha trovato il cliente ha trovato la fattura dello stesso importo e mi ha fatto la registrazione non devo guardare niente c'è la data l'importo la banca c'è gli ho presi dall'onbanking quindi l'unico errore che può commettere il programma è abbinare la fattura sbagliata o non individuare il cliente ma il resto della registrazione lo fa anche se le fatture sono più di una quindi non trova solo una fattura ma anche più di una fattura che corrisponde a a quell'incasso e questi sono quindi qua ad esempio ha trovato più fatture mi fa fa anche un altro controllo che lo vedo qua in queste due verifica se per caso questa fattura la banca me l'aveva anticipata perché chi ha l'anticipo fatture ha la necessità di verificare che quando arriva l'incasso se la banca l'aveva anticipato ci sarà una restituzione o un rimborso di fare la banca quindi avendo la possibilità di gestire in Doc Finance l'anticipo fatture riusciamo a evidenziare immediatamente se quella fattura è anticipata e quindi dobbiamo effettuare il rimborso i movimenti gli incassi invece che non riesce a registrare in automatico perché non c'è corrispondenza perché nelle notte non si capisce chi ha pagato perché si è trattenuto qualcosa di strano tutto quello che non va in automatico in maniera manuale si può gestire a uno a uno nel senso che la prima parte della registrazione la farà sempre Doc Finance il lavoro dell'utente è quello di dire chi è il cliente e cosa ha pagato quel cliente può esserci il caso del pagamento anticipato non c'è la fattura si è sbagliato non si capisce arriva da un soggetto diverso ecco tutte le casistiche tutte le situazioni strane lo sconto si è trattenuto uno sconto perché il cliente tedesco tutte queste cose le abbiamo già incontrate su altri clienti sono già previste all'interno di questa videata abbiamo la possibilità di creare chiudere la registrazione con la salda conto creando magari una buono le spese trattenute una differenza cambio se c'è un abbiamo incassato un importo una fattura in valuta un pagamento anticipato una compensazione cliente fornitore potrei andare avanti con tutti i casi particolari che vi capitano nella registrazione di un bonifico li abbiamo già previsti e si gestisce all'interno di questa videata in modo tale da chiudere la registrazione cioè assegnare in pratica la riga di banca la contropartita o le contropartite come se fosse la vostra contabilità e passarla in contabilità in maniera definitiva ma può succedere anche che il movimento prende motivi deve rimanere lì perché non so come registrarlo devo chiedere devo informarmi non c'è problema non ho bisogno di fare staffe scrivania pulita me lo ricorda lui quindi posso portarmi il computer lavorare da casa che tanto non ho bisogno di tutte le carte spero che ho in ufficio perché è il programma che mi tiene in memoria i movimenti che devo ancora registrare quindi posso sospendere le mie registrazioni le può continuare il mio collega posso rimandarle domani mi riproporrà il programma quelle che ancora non ho registrato che sono i movimenti di incasso tutti gli altri movimenti beh cosa facciamo degli altri movimenti sicuramente conviene fare una bella spunta automatica perché gli altri movimenti sono quei movimenti che arrivano dalla banca ma che io probabilmente tesoria ho già creato anticipatamente prima della banca e adesso non lancio non eseguo la spunta automatica per mostrarvi cosa cosa succede invece se non il confronto semplice che viene fatto tra scelgo scelgo semplicemente un conto corrente diciamo che parto da una lista di banche queste sono le mie sei banche magari ne avete tre ne avete dieci quelle che sono su ogni banca vedo il saldo della banca dell'onbanki e il saldo di tesoria e per ognuno vado a vedere qua ad esempio visualizzo un conto corrente e metto a confronto le righe dell'onbanking immaginate il vostro onbanking il vostro onbanking avrà un estratto conto una lista di movimenti che forse voi stampate ecco queste sono le righe dell'estratto conto dell'onbanking ma non sono tutte per semplificare vi mostriamo solo quelle che ancora non avete gestito perché quelle ricevute ieri o ieri l'altro che avete già controllato spuntato registrato se le volete vederle andate da vedere qua dentro c'è tutta la storia della vostra banca ma quello che devo guardare oggi sono gli ultimi arrivati quelli ancora da gestire ecco questi movimenti dobbiamo semplicemente verificare se in tesorria li avevano già previsti e in molti casi è facile prevederlo già con Docfinance perché qua ad esempio mi è arrivata l'accredito delle riba se voi incassate con riba quando voi presentate la distinta sapete già che a una certa data vi arriverà l'accredito dico bene quindi ancora meglio Docfinance ha già creato l'accredito perché sulla parte destra vedete le righe invece di tesoreria che sono movimenti che ha creato il programma non sono stati inseriti a mano sono stati creati da Docfinance in automatico a partire dalle distinte che sono stati inviati in banca quindi se vado a vedere questa riga di accredito vedo che risale a una presentazione di una distinta che conteneva tanti effetti con date scadenze diverse il programma li ha raggruppati per data scadenza ha applicato i giorni di valuta e ha creato quindi tutti gli accrediti di conto corrente previsti sulla base di quella distinta tenete conto che applichiamo la tecnica bancaria quindi giorni di valuta banca su banca festività quindi riusciamo a creare esattamente in anticipo l'accredito che mi aspetto di ricevere dalla banca e in questo modo quando mi arriva dall'onbank si dovrebbe spuntare in automatico cioè mi arriva quello che io sapevo già che mi sarebbe arrivato e a me magari mi arriva l'insoluto ma l'accredito dell'eriba è facile e non solo gli accrediti riesco a calcolare in maniera perfetta ma riesco a calcolare anche in maniera perfetta l'addebito di commissioni perché se ho inserito nelle condizioni in un archivio specifico quali sono le commissioni che mi applica la singola banca sul portafoglio sugli insoluti sui bonifici sui girofondi cioè quelle dieci operazioni che comportano oneri una volta che ho inserito le condizioni il programma mi crea sempre in automatico l'addebito di spese quindi cosa succede? mi arriva dalla banca la credito dell'eriba ce l'ho già lo spunto flag verde e il movimento è sparito era perfetto mi arriva un addebito di commissioni ce l'ho già l'ho previsto lo spunto in questo caso non è identico mi segnala che c'è una data diversa non c'è problema me lo segnala prendo atto correggo sì e sparisce c'è obiettivo tenere la ridata pulita quello che man mano controllo mi è arrivato l'addebito di un bonifico con le sue commissioni ci sono anche 50 centesimi di addebito ovviamente qua è un bonifico che ho inviato io in banca posso anche selezionare più righe vedete si lavora molto di mouse col mouse flag verde cioè tutte queste righe che vediamo in tesoria sono movimenti creati a partire da distinte che sono stati inviati in banca quello che non abbiamo visto è come si creano queste distinte perché distinte a questo punto abbiamo detto come faccio ad avere quale distinte di portafoglio distinte di bonifico tutto beh la distinta che creiamo da docfinance intanto abbiamo la possibilità di crearla chiudendo le fatture e inviarle in banca direttamente da docfinance è tutto molto comodo ma le possiamo creare anche anticipatamente oggi cos'è il 6 novembre magari preparo i bonifici che devono essere eseguiti il 10 novembre mi metto avanti avrò la data avrò la debito previsto 10 perché effettivamente qua man mano noi possiamo andare avanti e abbiamo già anche tutti i movimenti futuri le rate del mutuo e tutto quanto ma andiamo a vedere come si creano le distinte beh le distinte semplicemente abbiamo diverse tipologie pagamento riba pagamento riba che se voi lo fate adesso se avete riba passive dei fornitori è sicuramente un pagamento che fate nell'onbanking immaginate che in docfinance abbiamo la possibilità di vedere in automatico tutte le riba dell'onbanking e le mettiamo a confronto confrontiamo in automatico con le fatture dei fornitori è facile abbiamo tutti gli elementi per controllare in automatico le riba adesso qua posso mettere delle date ma comunque anche se non c'è posso anche fare in pratica compaiono due liste fatture e riba associazione automatica controlla tutto controlla data controlla l'importo controlla il codice fiscale insomma alla fine mi dice bene queste riba corrispondono alle fatture e fornitori questo lo aggiungo nelle aziende lo troviamo sempre stampo stampo oppure video video flaggo flaggo ok questo lo posso pagare praticamente quel pezzo questa qua è l'associazione tra l'avviso e la scadenza che va a sostituire il stampa stampa evidenzio evidenzio praticamente quello e poi invece nello step 2 in quello della distinta c'è proprio la creazione della distinta degli avvisi che ha lui in automatico già associati vengono già associati le varie banche in base a quella che è la banca dove risulta appoggiata la riba e quindi creiamo le distinte da inviare in banca facilissimo e poi le distinte ce le troviamo qua dentro come distinte da firmare perché un conto è preparare la distinta e preparare il pagamento un conto è poi autorizzarle inviarle in banca ci sarà l'utente X che può autorizzare firmare nei momenti in cui vengono autorizzate vengono sempre con questo pulsante inviate in banca allora questo con il sistema integrato sicuramente con alcuni onbank integrati che hanno lo schedulatore che permette di fare con questa sorta di firma facciamo una firma qua e in questo modo inviamo le distinte direttamente nell'onbank però a parte intesa una firma fittizia su Doc Finance che predispone la distinta per essere inviata all'onbanking nel caso in cui ci fosse un onbanking esterno l'onbanking esterno riceve le distinte però la firma finale deve essere fatta esatto dipende un po' come siete organizzati rimane su l'onbanking quindi Doc Finance si ferma all'invio della distinta all'onbanking e poi dopo in realtà è stata inviata non è stata inviata lo sa l'onbanking perché è lì che deve essere fatta la firma finale se si usa questo è chiaro che c'è anche è solo una questione di abitudine cioè si vede anche proprio se la distinta firmate è anche già stata inviata in banca se la banca l'ha elaborata insomma c'è tutto lo storico sulla distinta quindi sicuramente una comodità in più ma cambia poco nell'onbanking solo le firme le distinte comunque vengono preparate da qua e oltre all'associazione delle riba il pagamento delle riba è sicuramente molto comodo anche per la presentazione delle distinte riba dei clienti o per le distinte di bonifico a fornitore perché effettivamente i fornitori soprattutto che voi pagate nell'onbanking da qua si può semplificare la creazione anche sfruttando tutta una serie di informazioni che ha Doc Finance che sono tanto la disponibilità sulle banche quindi dove ho disponibilità e abis su abis se ho possibilità di pagare i fornitori che hanno la stessa banca il controllo delle condizioni quindi posso anche ottimizzare insomma posso fare tante cose insieme prima di tutto vado a scegliere i fornitori da pagare perché decido io chi pagare e quando pagarli quindi una volta che ho effettuato il mio filtro e magari il filtro si basa su quello che scade in un periodo oppure vado a cercare il fornitore x y perché devo selezionare determinate fatture ma in pratica io posso anche selezionare tanti fornitori insieme qua ad esempio saltano fuori 417 fatture posso fare vari controlli posso anche decidere di non pagare determinate fatture quindi le elimino dalla mia selezione o posso pagare un importo perfetto un importo diverso rispetto a una fattura che mi viene proposta magari la fattura di 10.000 pago solo un conto di 5.000 decido la data di pagamento mi propone data di oggi ma tranquillamente io posso andare ad assegnare la data esecuzione ad esempio al 10 quello che vengono eseguiti il giorno 10 mi viene immediatamente evidenziata la fattura che non può essere pagata perché manca l'Iban o l'Iban non è corretto per cui ho immediatamente un controllo anche sulle anagrafiche dei miei fornitori e qua ovviamente si apre la parentesi chi fa i pagamenti direttamente nell'home banking spesso aggiorna le anagrafiche nell'home banking e non in contabilità noi vorremmo che ci fosse un'unica anagrafica che comanda che è quella della contabilità quindi tutti quei dati scritti nell'home banking che mancano in contabilità saranno da aggiornare saranno tutto dalla contabilità non dobbiamo aggiungere nient'altro se in contabilità ci sono le anagrafiche complete non c'è nulla da aggiungere questo viene molto usato anche prima quando si installa facciamo l'import di tutto lo scadenzare andiamo a vedere quanti Iban mancano e li vediamo tutti insomma e vabbè quindi manca lo posso inserire al volo ovviamente se non è formalmente corretto il programma non me lo accetta quindi mi dice che Iban non è valido e quindi posso andare avanti pagare il resto senza pagare quelle che non hanno l'Iban la cosa comoda qua è il fatto di raggruppare già le scadenze e quindi generare qua c'è il discorso della nazione a fronte di 400 fatture 300 fatture mi crea magari solo 50 bonifici perché raggruppa le fatture dello stesso fornitore quindi se ho anche 10 50 100 fatture di un unico soggetto me le raggruppa mi crea quindi le disposizioni di bonifico ho poi alla fine a disposizione le mie banche le mie banche e vado ad assegnare un importo massimo che voglio pagare sulla singola banca oppure sfrutto l'ottimizzazione quindi vado a disposizioni rbn distinte ok allora possiamo andare a controllare dove abbiamo disponibilità in banca al 10 e questo ecco ho sostanzialmente calcolato il saldo disponibile su ognuna delle mie sei banche alla data del 10 visto che devo fare i pagamenti del 10 quindi qua mi viene evidenziato esattamente l'importo massimo che posso pagare poi visto che qua ho solo 12.000 euro magari non pago niente nemmeno su questa nemmeno su questa e del milione e mezzo che devo pagare vado a dire pago magari 900 mila 950 mila euro su questa anzi 950 devo pagare qua 900 quindi faccio così ho 600 posso ripartire semplicemente gli importi a questo che sono sto sbagliando a 30.000 invece di 300.000 aggiungo un valore e qua 50 sono nel computer nessuno mi perde ok ho messo ho ripartito tre valori dico pago al massimo 600.000 su questa banca 300 su questa e 60 su questa e lui va a ripartire i miei bonifici perché non me leggo molto bene questo è l'effetto demo è l'effetto demo quindi avrebbe dovuto creare tre distinte ripartendo i i i vari bonifici distribuendoli sulle varie banche calcola contemporaneamente anche il costo le commissioni tenendo conto quindi delle condizioni applicate e in questo modo va a creare la distinta da firmare da mandare in banca quindi non dobbiamo aggiungere nient'altro e anche va a scrivere sulla banca che ci sarà quella che arriverà quella debito quindi poi quando adesso andiamo a vedere la nostra situazione dei saldi sappiamo già che al 10 di novembre ci sarà un debito di 600.000 sulla banca Cassa di Spagna in Piacenza 300 su quell'altro insomma quindi andiamo già a cambiare il saldo previsto non solo nel momento in cui creare le distinte da Doc Finance chiaramente le fatture che abbiamo selezionato risultano pagate ed è già anche tutto pronto poi per il passaggio in contabilità come dicevo prima in contabilità non si registra niente perché tutto nasce da qua lo posso fare chiaramente andrò a inserire in Doc Finance posso inserire tutti i pagamenti anticipati che devo fare quindi il fornitore piuttosto che qualsiasi altro pagamento vado a inserire un conto è la scadenza l'impegno che mi arriva dalla contabilità poi in Doc Finance posso aggiungere tutte le scadenze e tutti gli impegni che voglio soprattutto i pagamenti anticipati visto che devo pagare creo già la scadenza vado a creare la distinta posso anche fare una distinta unica che comprende sia fatture fornitori sia pagamenti anticipati e poi ci pensa Doc Finance quando passa in contabilità la contabilità riconosce se ho pagato una fattura o è un pagamento in anticipo aggiungo che per le fatture pagate torna comodo poi la possibilità di inviare in automatico i fornitori la notifica del pagamento avvenuto quindi tutto quello che risulta pagato non è qua mi conviene chiudere perché ho smanettato con la nuova versione prevista in futuro dov'è? dopo Anna? allora vai qui faccio una parentesi nel frattempo quindi quando si crea la distinta se si ha in contabilità la mail del fornitore praticamente nello stesso momento in cui la firma il fornitore può ricevere la notifica ok Doc Finance ti ha pagato la fattura anche con l'indicazione stessa della numero della fattura che Doc Finance ha pagato al suo al fornitore in questo caso e quindi arriva direttamente la notifica un'altra cosa importante è il fatto che mentre creo la distinta posso in automatico creare le note le note stesse che il fornitore poi vedrà all'interno della distinta quindi si imposta all'inizio quando si parte con Doc Finance e gli si dice ok quando io creo la distinta vorrei che il mio fornitore vedesse numero fattura piuttosto che altri dettagli che desiderate voi quindi mentre creo la distinta sto creando in automatico quelle note che il fornitore poi vedrà quindi il fornitore non ha più scuse per chiamarmi e dirmi mi è pagato non mi è pagato quando arriva la distinta data valuta eccetera lui sa già che arriva la notifica arriva nella nota c'è scritto tutto il dettaglio della fattura piuttosto che quello che vogliamo inserire quindi è posto così quindi si vanno a eliminare praticamente quattro cose che nell'azienda si fanno manualmente e il vantaggio di selezionare le scadenze è trovarsi i fornitori chiusi in contabilità a pubblicità io la mando dall'anagrafica di ad hoc o c'è un'anagrafica di ad hoc quello dell'anagrafica di ad hoc oppure si decide allora ad hoc nel trasferimento dell'anagrafica trasferisce anche l'indirizzo mail se però deve essere usato un indirizzo mail diverso si può anche decidere di compilare un campo direttamente do finance ok esatto a doc finance ne arriva uno e si tratta di definire qual è quello che perché probabilmente hanno un attributo a questi indirizzi mail uno serve per gli ordini uno serve per esatto esatto quindi ci dovrà essere l'indirizzo mail specifico con un certo codice attributo che è quello che passa a doc finance poi nel momento in cui andiamo a creare le notifiche anche qua per semplificare abbiamo subito la visualizzazione di tutti gli indirizzi dei fornitori che non hanno la mail così vediamo quelle mail che devono essere compilate infatti all'inizio quando si installa doc finance si parte ci sono appunto questi aggiustamenti man mano poi non è obbligatorio sistemare tutto subito cioè man mano uno aggiorna le anagrafiche che servono sicuramente l'ottimizzazione c'è la creazione dei saldinari dei bonifici che effettivamente uno dice ma io sono abituato però devo guardare la fattura devo chiedere l'autorizzazione mi serve il visto devo usare comunque la carta tutte le abitudini che troviamo nelle aziende il vantaggio semplicemente è quello di partire dalla fattura in automatico cioè non da un dato inserito a mano quindi si evitano errori si evita di pagare due volte per sbaglio la stessa fattura ed è tutto già tracciato mentre pago è già registrato e lo comunico anche al fornitore quindi c'è una una grossa semplificazione di quello che lavora l'altro aspetto invece dell'ottimizzazione è ancora più comodo visibile nelle riba quando voi presentate le distinte riba le create già lì in automatico da gestionare ma il vantaggio è che con DocFind teniamo conto delle commissioni e ottimizziamo la presentazione in base alle commissioni quindi questo è il motivo per cui normalmente le distinte riba vengono create da DocFind invece di crearle dalla contabilità certo abbiamo la possibilità di scaricare automaticamente tutti i cambi oltre ai tassi vedete qua sotto che scorre i cambi del giorno esatto tabella cambi del giorno aggiornata e valorizzazione dei movimenti sul conto valutario al cambio del giorno con rilevazione automatica della differenza cambio rispetto al cambio storico e con la possibilità di creare i movimenti di adeguamento contro valore periodici fine mese fine trimestre una volta all'anno per adeguare per avere cioè il vantaggio qua me lo chiedeva tra l'altro poco tempo fa un cliente abbiamo proprio l'estratto conto in valuta con la doppia valuta cioè il conto il valore in euro il valore in valuta e il controvalore in euro che essendo al cambio del giorno chiaramente si mescolano valori diversi quindi periodicamente si può fare direttamente da doc finance l'adeguamento contro valore che voi immagino facciate o a fine anno o in fase di chiusa di bilancio si può creare direttamente da doc finance quindi si l'applicazione dei dei cambi è comoda perché effettivamente anche questo toglie toglie la necessità di calcolo di riportare il cambio e viene presa automaticamente dalla tabella cambi così come i tassi anche i tassi li scarichiamo sulla movimentazione sui movimenti vabbè creiamo le distinte facciamo possiamo fare una registrazione banale anche direttamente dal movimento di home banking se l'abbiamo dimenticato è un addebito particolare è un addebito di commissioni che non era previsto tutto quello che può arrivare che non abbiamo previsto prima direttamente da qua io posso prendere per dire mi arriva un euro o la debito bolli o qualsiasi cosa io posso selezionare la riga di banca la riga di home banking e doppio clic il programma mi chiede mi mostra tutte le causali già che ho predisposto pronte per essere usate io posso scegliere tranquillamente una causale e dire ok questo è la debito bolli e lui mi fa la registrazione quindi semplicissimo perché legato alle causali noi abbiamo i conti della contabilità generale e partiamo dalla riga di home banking lo trasformiamo in un movimento contabile comodissimo ma dove tutta questa operatività cioè adesso tutti i vari passaggi girofondo girofondo cioè qualsiasi operazione molto semplice da fare in Doc Finance l'obiettivo è avere tutta la banca gestita cioè tutte le righe di strato conto e avere quindi poi il tempo per analizzare i nostri impegni impegni che sono non solo le scadenze da pagare perché magari qua ci siamo creati un nostro scadenzario ma anche monitorare finanziamenti mutui garanzie cioè tutto quello che è in scadenza o è scaduto io non conosco la vostra operatività quindi magari non non so se vale la pena dedicare tempo alla gestione delle varie linee di credito però la cosa importante è per voi sapere che c'è la possibilità di gestire tutte le forme di finanziamento applicate dagli istituti di credito e anche da società finanziarie diverse dalle banche come può essere Factor come può essere altre forme di finanziamento e l'idea è quella di avere quindi il nostro scadenzario che so dei fin import con l'importo finanziato il tasso applicato la data scadenza in modo da avere non solo uno scadenzario ma gestire tutto l'avanzamento il calcolo interessi il calcolo commissioni e avere quindi un monitoraggio preciso di quelli che sono gli impegni ancora più semplice mi viene da dire coi mutui perché il mutuo una volta che l'abbiamo inserito non ce ne preoccupiamo più salvo il fatto di ricalcolare è il programma che ricalcola le rate con i nuovi tassi avete mutui? variabili? col tasso variabile che stanno cambiando adesso? quindi le rate sono da ricalcolare ecco il ricalcolo lo fa eh? lo fa DoFainas perché quello che noi inseriamo del mutuo non è il piano dei mutui ma quello che noi inseriamo sono le condizioni del contratto di mutuo quindi un tasso magari variabile con uno spread del 4% rispetto all'Euribor a tre mesi eh con le varie caratteristiche del tasso da calcolare in modo da riprodurre il piano di ammortamento della banca e avere quindi sempre poi il piano di ammortamento aggiornato eh comodo ai fini previsionali e anche dal punto di vista della registrazione perché le rate ce le troviamo già calcolate dal programma con tanto di legame con i conti della contabilità cioè tutto quello che voi vedete in Doc Finance sono movimenti già con eh collegamento la causale ai conti della contabilità generale si può fare anche quello no beh allora laddove arriva la fattura quindi tipicamente lisi noleggi chiaramente dopo ci sarà ad abbinare anche la fattura però ai fini previsionale è fondamentale sfruttare questa procedura perché così abbiamo sì assolutamente sì anche perché poi c'è lo scadensario per vederli insieme certo cosa facciamo in caso di investimento attivo che sono le mobilizzazioni di tutti gli interessi periodici allora non possiamo gestire alcune forme di investimento con quindi un calcolo di interessi attivi e possono essere gestiti con dei conti appunto specifici in modo da avere non c'è una gestione sofisticata del portafoglio titoli perché ci fermiamo a un inserimento manuale e non una gestione del portafoglio che fanno certi certi gestori che poi mandano tutta quella l'antipotazione magari quindi ci fermiamo prima semplicemente una visualizzazione dei saldi e una gestione dei saldi del calcolo di interessi e tutti questi dati per ottenere poi avere pronte cioè quindi due click per registrare due click per spuntare sto un po' semplificando però insomma poche operazioni per essere per aver fatto le registrazioni il controllo delle banche e quindi abbiamo a disposizione tutta una serie di report prima ancora di mostrarvi la proiezione dei saldi che è quella che quotidianamente deve essere visualizzata perché ho ricevuto i dati ho aggiornato le banche e guardo i saldi prima ancora di mostrarvi la proiezione dei saldi e vi mostro il cash flow perché perché nel cash flow abbiamo un'idea se abbiamo previsto tutto perché noi fino adesso abbiamo detto di dati dalla contabilità ma per fare una previsione non bastano le fatture della contabilità abbiamo bisogno di tutta una serie di altre informazioni che dovremo che potremo inserire direttamente in Doc Finance cioè quali sono le informazioni che dobbiamo mettere insieme abbiamo detto ok contabilità mutui cioè tutto quello che è finanziario Doc Finance me lo gestisce perfettamente quindi anticipo i finanziamenti mutui avrò tutto il mio scadenziale ma poi ci sono altre voci ho gli stipendi da pagare i contributi le imposte ho un investimento che sto facendo ancora non ho ricevuto fatture però devo stanziare certi fondi quindi tutto quello che è significativo dal punto di vista finanziario potrà e dovrà essere inserito a mano direttamente in Doc Finance cioè Doc Finance in questo senso sostituisce il vostro foglio Excel andate ad aggiungere qua tutte quelle voci significative in più e questo dimmi Enrico un attimo Tim se c'è una domanda secondo me da remoto c'è una domanda da remoto la chat la chat vedere no no oh dios vai qua tiar mi dicono che forse ci sono domande gestire ah fidevisioni bravo Giuseppe non avevo notato allora mi viene chiesto se possiamo gestire anche fidevisioni sì tutte le forme di garanzie fidevisioni lettera di credito tutte quelle operazioni che utilizzano degli affidamenti hanno degli oneri è possibile ed è bene gestirle aggiungo anche che Doc Finance nella gestione permette anche il calcolo delle commissioni avere lo scadenzario e anche il collegamento del documento no viene in mente leggendo fidevisioni viene in mente che abbiamo un cliente che ha migliaia centinaia e sta usando Doc Finance come archivio proprio documentale perché nell'inserire la fidevisione anche è collegato il pdf in modo da avere non solo lo scadenzario ma anche i documenti collegati quindi sì anche le fidevisioni sono quelle che come? non chiude ah sì scusa ok sì per chi è collegato da remoto è possibile fare domande attraverso la chat o dr insomma in modo da poi cerchiamo di rispondere quello che sto mostrando il cash flow praticamente adesso qua sono tanti dati un periodo lungo ma è giusto per farvi vedere che praticamente non ci sono limiti io posso analizzarlo anche per un anno due anni dipende dalle date che vado a impostare ora abbiamo raggruppato qua con delle colonne le colonne le colonne rappresentano i mesi ma in realtà quindi ho indicato marzo aprile maggio giugno luglio vari mesi dove per ogni mese vedo le entrate previste e le uscite previste suddivise per categoria questo è importante per rendermi conto se ho previsto tutto cioè gli stipendi il personale ci sono contributi ci sono le imposte non le ho previste forse penso di non pagare nulla forse sarà meglio andare a inserire qualcosa no? gli amministratori li ho previsti fino a settembre fino ad agosto e poi cosa faccio non li pago più non ho forse il caso di andare a raggiungere quindi se io mi abito a usare questo report per un periodo abbastanza lungo magari almeno ogni tot mesi aggiorno in modo da essere sicura di non dimenticare le voci significative il resto invece i fornitori e i clienti mi arrivano in automatico della contabilità quindi di questo chiaramente ho dei dati significativi nel primo periodo e vado più o meno a zero dopo ma perché i miei ordini i miei fattori mi danno scadenze a due tre mesi quattro insomma infatti ecco che il personale l'ho previsto sempre i fornitori sono magari due milioni d'aprile diventa duecentomila euro tra quattro mesi ma perché non ho più i fattori dalla contabilità in automatico quindi quello è automatico con la contabilità tutto il re quello che devo prevedere questi qua variabili in automatico alla notte magari possiamo schedularlo quindi tutte le mattine io so di averlo scadenzare a giornata la sera prima oppure più volte al giorno se mi serve avere ho registrato le fatture adesso le voglio vedere subito perché magari devo pagare subito posso fare il trasferimento tutte le volte che voglio però ecco quello che avviene in automatico di solito lo scheduliamo alla notte più semplice quello che vado a inserire invece manualmente qui me lo ritrovo poi cioè in modo da registrare ad esempio gli F24 per le tasse piuttosto che le compense amministratori nel momento in cui pago anche dipende nel momento in cui pago effettivamente quello che avevo previsto la stima serve perché ad esempio per il personale mi basta avere un'unica voce non può essere usata questa per i fini del pagamento solo una stima no impiegati 170.000 altri collaboratori 25.000 duplicato lo duplico x mese mi sono fatta la mia base quando devo pagare veramente creo le distinte come ho sempre cioè lì non è Doc Finance che mi aiuta perché la distinta me la dà o l'ufficio paga e quindi pago con l'onbank vado semplicemente a registrare il pagamento sostituendo l'importo previsto con l'importo effettivo tutto qua perché così tengo a giornata esatto esatto chiaramente se qua mi trovo che ho sia il pagamento si trova l'importo doppio perché magari ho fatto il pagamento e ho anche ancora la previsione ma è solo un'abitudine di abituarsi quando si fa il pagamento effettivo si va a sostituire o si cancella la previsione o si corregge si gancia la previsione in modo che venga sostituita col pagamento effettivo sui fornitori invece è più semplice man mano che li pago risulta il pagamento e non più la scadenza ma la cosa comoda di questi dello scadenzario dei fornitori è anche la possibilità di aggiustare i dati in base a quella che è la mia politica aziendale ho i bonifici a fine mese so che li pago a 10 oppure alcuni li pago puntuali altri li prorogo li sposto questa fattura è bloccata quindi tutta questa diciamo gestione la posso fare ad esempio spostando la data prevista direttamente dopo senza cambiare nulla in contabilità prendo queste fatture e dico no non intendo pagarle il 29 aprile ma le pago in un'altra data non sto cambiando la data scadenza in contabilità sto semplicemente prorogando il pagamento ai fini della tesoreria ok oppure l'altro aspetto è quello di creare categorie diverse io qua vedo solo fornitori Italia fornitori estero e fornitori intercompany in realtà molti dei nostri clienti creano altre categorie perché magari ci sono alcuni fornitori che devono essere pagati cioè perché può essere comodo nella creazione della distinta oggi pago i trasportatori domani pago gli agenti dopo domani pago finance anche quando voglio ci sono le categorie diverse i servizi quindi ogni fornitore potrà avere una sua categoria cioè se non voglio complicarmi la vita di default sono tutti i fornitori se poi voglio cominciare a dire questi fornitori insegno una categoria X e questi altri fornitori dopo potete aggiungere sulle anagrafiche fornitori la categoria specifica che vi serve per avere gruppi diversi oltre queste insomma varie informazioni stessa cosa sui clienti qua c'è un'unica voce clienti italia clienti estero clienti riba anche qua però ecco ancora di più qua gestire i giorni di ritardo essere prudenti so che questo cliente paga il mese dopo questo cliente paga puntuale insomma agire con dei livelli di affidabilità di varie categorie quindi insomma sono vari attributi il messaggio è perché qualcuno mi può dire sì vabbè ma lo scadenzale della contabilità io non uso quello sul mio foglio Excel inserisco io dei valori stimati perché quello che c'è in contabilità non corrisponde perfettamente il messaggio è partiamo da quello della contabilità aggiustiamo quello che dobbiamo aggiustare risulta molto più affidabile perché quelli sono i dati se so che quei clienti quei determinati clienti non pagano mai ok sposterò oppure escludo quei clienti ma gli altri sono quelli cioè non è un valore quindi tanti elementi per usare veramente il vostro scadenzario questo è esatto infatti se io vado a vedere questo dato qua qua ho tutta la lista di fatture ma in realtà se analizzo questo campo questa colonna che mi dice provenienza e lo trascino su vedo che ci sono contabilità 458 mila euro ma in realtà OR ordini altri 286 mila euro lo fa Zucchetti a noi passa già il dato previsto dell'incasso di pagamento è Zucchetti è il programma che crea fa questa giustamente questa elaborazione dalla data consegna prevista aggiunge termini di pagamento e quindi crea la previsione di incasso pagamento tutto partecipa più dati riesco a mettere insieme e poi ho tutti i mutui finanziamenti leasing tutto quello che ovviamente ho previsto quindi quindi questo mi dà l'idea se ho previsto tutto mi dà anche l'idea se come sto andando perché se ogni periodo le entrate che sono inferiori alle uscite comincia ad avere una criticità un problema che si manifesta nella riga del saldo progressivo cioè qua sotto in sintesi ho la somma algebrica dell'entrata e dell'uscita che va a sommarsi col saldo progressivo dei miei conti e quindi magari può essere che io sia in negativo che abbia disponibilità o fa bisogno a seconda dei periodi nel dettaglio sotto abbiamo però anche tutte le banche quindi e tutti gli affidamenti quindi non vediamo solo la movimentazione ma vediamo anche quant'è la disponibilità degli affidamenti sugli anticipi sui finanziamenti sui mutui sul portafoglio quindi a ogni data cioè io vedo il castelletto di portafoglio quanto sto utilizzando e quanto ancora disponibile prima di partire con o no perché la configurazione non è banale adesso perché il mio allora l'importante allora il risultato il risultato vi è chiaro il risultato vi è chiaro quindi è un po' bene però come arrivarci come arrivarci vi assicuro che è più molto più semplice di quanto potete immaginare perché perché qua c'è tutta la nostra esperienza di rendervi il programma cioè facile e siccome immagino che ognuno di voi non abbia 100 mutui da inserire 200 conti correnti immagino eh perché vi assicuro che ho anche clienti che hanno questi numeri ok allora se l'azienda che incontro dice io allora il mio gruppo abbiamo 20 aziende 200 conti correnti qualche centinaia di finanziamenti dico beh sì in effetti mettili una persona a inserire i dati perché c'è un po' di lavoro da fare ma se qua stiamo parlando di realtà con qualche banca qualche finanziamento qualche cioè qualche giornata punto e dopo siete operativi qualche giornata di progetto complessivo si installa nell'arco di una giornata di formazione sugli incassi tutte le varie forna giornata di formazione sui pagamenti una giornata di formazione sulle varie linee di finanziamento al quarto giorno siete a guardare le analisi come facciamo se ride ok dai al quinto i nostri progetti si svolgono nell'arco di un mese un mese e mezzo un mese e mezzo perché poi si fa un giorno una settimana si va avanti con l'operatività quindi la formazione ovviamente mirata sulla base delle vostre particolarità quindi non è una formazione diciamo generica ma una formazione operativa di affiancamento cioè nel momento in cui si sta al programma si inizia subito con il consulente che affianca all'azienda fa la formazione come solo le vostre condizioni si inseriscono insieme una volta creata la base cioè si fanno insieme al consulente dopo il più è tenerle aggiornate ma quando cambiano non è il più grosso è fare la base i mutui se ne avete tre li fate tutti e tre col consulente se ne avete dieci tre come formazione gli altri ve li inserite voi come esercizio no insomma però da sicuro che e quindi è la formazione è la formazione il programma non viene installato e arrivederci cioè il programma viene fornito da un consulente che una volta fatta l'installazione vi fa anche la formazione con i vostri dati per rendervi autonomi il nostro obiettivo è rendere autonome le persone che devono usare Doc Finance che non hanno bisogno di noi per una banca nuova per una condizione nuova ma tutto ed è già e sono già previste tutte le varie casistiche di operazioni che avete ma sì sono simpatici no sto scherzando allora abbiamo ovviamente l'assistenza che viene fornita beh intanto puntiamo sempre con l'obiettivo di rendervi autonomi anche quando l'assistenza non c'è cioè dopo le 6 di sera il sabato la domenica in vacanza non lavorate va bene comunque se a uno ci scrivono il sabato e la domenica c'è anche chi lavora il sabato e la domenica bene il sabato e la domenica non trovate nessuno al telefono ma prego in questo caso abbiamo tantissimi clienti che pagano anticipato si e quindi necessitiamo di destinare insomma che arriva perché abbiamo fatto tutte le ricerche oppure si dedicano gli investimenti diversi che pagano le fatture o fatture capitali al giorno arriveranno 4 bonifici che visitano la fattura quindi che riescono a leggere i bianni 25 che arrivano che sono ostenti a me cosa cambia tutte le persone ora non lo possiamo registrare in automatico però le domande sono due allora vi arrivano bonifici posso chiederti da privati quindi da privati e sono anticipati e che tipo di attività svolgente che ah ceramica ok quindi il privato entra in negozio compra e paga e fa il bonifico ok e poi gli dati il materiale e quindi quello beh non c'è non c'è soluzione nel senso che allora chiaramente il bonifico anticipato nel momento in cui voi potete agire in due modi allora voi cosa fate oggi lo registrate subito in contabilità per poi emettere la fattura oppure sono due operazioni slegate registrate per emettere la fattura l'anagrafica almeno del cliente c'è perfetto ok allora qual è la semplificazione allora intanto qua per chi mi ha chiesto per le condizioni non mi ricordo come si fa vado sul manuale sì sì arrivo subito vado sul manuale ed è tutto ed è tutto descritto quello che mi è stato raccontato dal consulente quindi come è fatta la videata proprio del programma e come si inseriscono le spese quali tipi di spese come si inseriscono i giorni di valuta quindi c'è proprio come si duplicano se le voglio duplicare su altre banche quindi c'è tutto documentato tutto tutto un parolone cerchiamo di documentare il più possibile nel manuale abbiamo un manuale su tutte le funzionalità utilizzate del programma ed è disponibile 365 giorni l'anno e sabato e domenica quindi la prima cosa è visualizzare le informazioni nel manuale e il manuale veramente c'è c'è tutto anche sulle analisi magari non ho mai guardato con l'analisi aspetta questa statistica come va letta vado a vedere sul manuale trovo le informazioni poi da sempre da Doc Finance qui da Doc Finance entrate nel manuale da Doc Finance aprite i ticket cioè avete la possibilità di rivolgervi all'assistenza con un ticket in pratica fate qua una richiesta di informazioni di aiuto di richieste varie e nel momento in cui inserite il ticket poi nel giro di si spera pochi minuti dipende dai giorni ok dovreste ricevere la risposta al ticket direttamente in Doc Finance o nella mail collegata o all'urgenza magari non mi si apre neanche il programma perché oggi mi è andato in tilt il computer quindi non posso aprire il ticket non posso visualizzare il manuale chiamo il telefono in orari lavorativi c'è qualcuno che risponde si spera no nel senso al massimo lì il telefono ci possono essere le linee occupate questo perché avendo tanti clienti c'è chi abusa del telefono insomma e quindi poi si fa più fatica a prendere la linea il nostro obiettivo è quello di far usare il più possibile il manuale perché davvero uno magari sta lì mezz'ora aspettare di prendere la linea quando in realtà la risposta la poteva già ottenere direttamente il manuale perdeva meno tempo tornando agli incassi beh allora intanto partire dalle righe di un banking esatto però adesso dovete inserire a mano l'incasso qua voi vi trovate la io mi trovo qua le mie 20 registrazioni 20 a questo punto dico ok manualmente perché l'automatico manuale significa che semplicemente vado adesso la non so perché non me ne fa più vedere andiamo a vedere qua ecco facciamo questo ho ricevuto questo bonifico ho provato in automatico ma non lo trova bene quindi cerca le scadenze proprio niente a questo punto cosa faccio chiudo lo scadenzario vado a mettere direttamente abbiamo detto che il cliente c'è bene scrivo direttamente sul cliente è cliente A B A B B B B B B C'è però la non non devo digitare nulla l'importo la data la banca li prende all'unbanking complito solo la registrazione mettendo io il codice del cliente adesso voi dovete digitare questi dati andate in contabilità e dovete scrivere che vi ha pagato 526,35 euro il 3 febbraio sulla banca BPC invece qua completo la riga di un back cioè praticamente parto dalle righe di un back è questo conto cliente qua è questo conto cliente qua certo tra l'altro quando registri la fattura giri chiudi i clienti direttamente io vado così a scrivere tutte le partite allora anche adesso c'è anche io delle registrazioni mi faccio la mano perché resteranno un po' di a mano perché non sono le cazze la nostra c'è la sua scelga la parte sono le cose che io dico sono le sue come ne pensi al giorno secondo me allora ci sono due strade comunque ci sono due strade o quella appunto che sto mostrando cioè parto dalla riga completo la riga di un back mettendo il codice del cliente stop e così ho anche la lista ma ripeto evito errori dimenticanze stampe perché così li inserisco e sono già registrati sulla scheda cliente oppure c'è chi comunque fa perché dopo lì bisogna vedere come viene messa la fattura la fattura è collegata a questo incasso no in realtà emettete la fattura direttamente in contabilità no c'è una procedura diversa allora c'è chi dice ma aspetta queste magari mi faccio pure la stampa dico sono questi 20 ho il tabulato degli incassi del giorno lì passo a chi deve fare le fatture fa le fatture e il giorno dopo me li registro in automatico perché arrivano le fatture e quindi esatto alcuni clienti che non hanno la priorità di avere quell'incasso registrato su quel cliente oggi qui hai la lista degli incassi ok ce li ho li do alla collega gli dico di registrare la fattura faccio ripassare lo scadenzario e lì ce l'hai l'automatismo perché lì avendo la scadenza lo chiudo il cliente quindi se non hai lo stress di averlo chiuso quel giorno tanto se lanci l'analisi tanto se dovessi lanciare un'analisi dei saldi i movimenti di incasso stanno partecipando al tuo saldo anche se non hai clienti chiusi in contabilità perché noi qua guardiamo il saldo della tesoreria quella lista di tutti quegli incassi tu ce li hai stanno partecipando al saldo la contabilità non è aggiornata appena mi registrano le fatture ripasso lo scadenzario e chiude i clienti può essere anche lo stesso giorno se la fattura dovessero registrare lo stesso giorno quindi poi lì si decide in base a quanti sono come vengono registrate un po' le fatture comunque conviene il giorno dopo perché così automaticamente è vinto di chiudere il saldo appunto la fattura in contabilità si esatto faccio passare il saldo lo puoi passare più volte in realtà in modo manuale non devi aspettare per forza te lo do si tanto non cambia non cambia cioè abbiamo abbiamo gestioni diverse c'è anche mi viene in mente un cliente che ha fatto una personalizzazione sul programma degli ordini riceve gli ordini e abbina direttamente l'ordine cioè fa la salda conto con l'ordine poi quando arrivi in contabilità ovviamente è una partita che non c'è perché la fattura non c'è solo un ordine però hanno personalizzato su gestionale perché do finance passa l'informazione dice quell'ordine ho incassato quell'ordine punto però hanno creato una procedura che automaticamente va a sbloccare l'ordine in modo che l'ufficio è cioè quindi e alla fine sì esatto dipende operare su ad hoc spuntando la possibilità di creare un documento eh quello probabilmente le varie e le varie tipologie di documenti che si creano ad hoc poi dovranno arrivare con tipologie di documento diverso quindi poi c'è bene da capire perché noi di standard riceviamo sì 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 perché di di solito noi riceviamo OR che sono gli ordini e CO sono le scadenze normali se si dovessero creare ulteriori documenti poi c'è bene da capire perché ci servono e come ci servono un po' di strassi e materiali sì 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 per le persone collegate da casa perché probabilmente non sentite le cose che vengono dette qua in sala probabilmente sentite solo la nostra voce e non allora abbiamo approfondito un attimo il discorso degli incassi anticipati dai clienti perché una delle aziende qua presenti ha come casistica principale gli incassi anticipati e comunque riusciamo a semplificare il tutto anche quelli poi adesso stanno parlando tra di loro non si capisce bene di cosa stanno parlando no però ecco invece vedo che una persona qua collegata ha chiesto invece un'informazione rispetto ai movimenti utilizzo delle carte di credito e carta prepagata come vengono gestite bella domanda allora qua non c'è una vera e propria gestione o meglio è impossibile gestirle perché la rendicontazione di queste carte non è standard non è di facile gestione soprattutto quello che alla tesoria serve alla fine è l'addebito che chiude un debito a debito della banca che chiude un debito verso carta di credito come si è creato quel debito è sulla base di tutta una serie di pagamenti fatti che a volte sono fattura a volte sono notte spesa a volte sono altre cose che non possono che essere gestite in contabilità non vi può aiutare Doc Finance in questo e quello che noi consigliamo è di gestire soprattutto i costi cioè tutto quello che viene imputato direttamente a conto economico quindi pago la multa piuttosto che è importante gestirlo direttamente in contabilità rilevando un debito un conto patrimoniale che poi viene chiuso con l'addebito in banca perché tutto quello che è la gestione dei centri di costo della contabilità analitica non avrebbe senso farla con un programma di tesoreria quindi le spese di competenza e l'attribuzione dei centri di costo parlo di tutte quelle spese al di là degli oneri finanziari perché se parliamo di interessi e spese è giusto gestirli dalla tesoreria ma tutti gli altri costi è bene rilevarli direttamente in contabilità assegnando competenza centro di costo e quant'altro e rilevando quindi un debito sul conto patrimoniale che può essere conto debiti per carte di credito debiti assicurativi eccetera che poi chiudiamo con i pagamenti effettivi in tesoreria hai detto qualcosa di strano vedo delle facce un po' perplesse ok bene un'altra domanda che arriva riguarda invece la tracciabilità dei flussi finanziari obbligatori per chi opera con la pubblica amministrazione in che modo Doc Finance interfaccia con Adhoc attualmente l'obbligo di indicare il codice CIG viene importato direttamente nella distinta dei bonifichi di Adhoc tramite la descrizione supplementare ma l'eventuale accorpamento di partite o non accorpamento sullo stesso fornitore viene gestito manualmente ok allora Doc Finance riceve da Adhoc sulle singole scadenze anche nel campo note il riferimento il campo il codice CIG o CUP perché anche il CUP e questa nota viene ovviamente riportata nella distinta di nella disposizione di bonifico chiaramente se ci sono CUP e CIG diversi non si possono accorpare le fatture che hanno CIG diverse e quindi si creeranno delle disposizioni cioè è sostanzialmente simile a quello che fa Adhoc non mi viene in mente però l'informazione la riceviamo riceviamo l'informazione in modo da riportarla direttamente sulla disposizione di bonifico abbiamo una marea di clienti che operano con la pubblica amministrazione quindi questi codici qua sono state fatte appunto le modifiche poi in realtà inizialmente si pensava che anche le banche adeguassero i tracciati invece poi viene riportato tutto su un campo note che equivale a dire che non serve a niente a nessuno però se non a lavorare di più nella fase di creazione delle distinte va bene vorrei sapere se Doc Finance può interfacciarsi anche con gestionali contabili che non sono ad hoc sì qualche centinaio quindi quindi diciamo che sì tanti gestionali sono già interfacciati torniamo sul Doc Finance poi i miei colleghi qua mi danno una mano a controllare se ci sono effettivamente altre domande le controlli tu Giuseppe bene e quindi riepilogando qualche giornata di formazione di affiancamento per rendervi autonomi con i vostri dati le vostre condizioni le vostre banche i vostri finanziamenti manuale online che si apre direttamente dalla iqua di Doc Finance per verificare qualsiasi informazione riguardo al funzionamento del software oltre al manuale pubblichiamo anche tutte le informazioni relative alle modifiche facendo una versione all'altra siccome come vi dicevo prima il programma viene periodicamente aggiornato ogni volta che cambia qualcosa nel programma viene documentata la modifica la variazione nella documentazione che noi rilasciamo su ogni adesso ad esempio è stata fatta una modifica per sui bonifici in base ai nuovi tracciati sepa però anche le cose più diciamo al di là delle modifiche legate ai tracciati proprio anche migliorie che magari vengono introdotte nel programma perché si modifica un report si aggiunge un report o qualsiasi cosa vengono poi visualizzate direttamente nel manuale adesso qua non so se c'è qualcosa di interessante comunque è tutto documentato l'obiettivo come dicevo è sicuramente quello di avere la situazione delle banche quindi stava andando un'occhiata abbiamo dato un'occhiata al cash flow per verificare di aver previsto tutto e per avere una visione quindi anche lunga insomma di medio lungo periodo chiaramente il cash flow può essere anche in realtà utilizzato con un raggruppamento che può essere la settimana settimana quindicina o per giorno se uno volesse vedere i movimenti per giorno in realtà nella visualizzazione per giorno è molto più indicata molto più adatta la proiezione saldi dove effettivamente non guardo semplicemente le entrate e le uscite previste ma le guardo suddivise per banca calcolando il saldo previsto su ogni singolo istituto di credito perché se ho tre banche anche solo tre banche capire gli incassi li ricevo su questa banca le riba la rata del mutuo ce l'ho su quest'altra banca quindi andare a evidenziare i saldi previsti calcolati anche giorno per giorno su ogni istituto mi permette di evitare sorprese e di avere un monitoraggio preciso di quelli che sono le disponibilità sui vari conti correnti in pratica qua le colonne rappresentano proprio una data al giorno giorno per giorno e il dato che vediamo sotto è un saldo che cambia quindi per ogni banca e soprattutto quello che a noi interessa è calcolare il saldo previsto e il saldo previsto di ogni banca viene calcolato tenendo conto di quello che prevediamo che accada su quel conto parliamo di operazione si può dire certe c'è la rata del mutuo il leasing gli stipendi che li pago sempre su una banca quindi su quella banca al 10 devo pagare gli stipendi poi ho le riba di fine mese o comunque le riba dei fornitori quindi i rid cioè tutto quello che è canalizzato che so già che deve che verrà debitato su una determinata banca è giusto calcolarlo già su quella banca poi invece i pagamenti che so a fine mese che devo fare i bonifici a fornitori deciderò sulla base della disponibilità l'importante è monitorare i saldi con quello che è già canalizzato i colori mi mettono in allerta cioè mi dicono che ho un problema laddove c'è il rosso ad esempio al 10 a questa data vado in rosso su questa banca quindi il saldo previsto negativo e non è sufficiente il filo di cassa non ho disponibilità e quindi ho un problema nel dettaglio vedo perché ho un problema vedo che ci sono tutte magari le riba da pagare o gli stipendi da pagare e quindi se non sono pagamenti che posso spostare posso invece fare dei girofondi fare dei girofondi oppure presentare dell'altro portafoglio su questa banca o fare un anticipo fatture insomma l'importante è sapere in anticipo di avere un problema e gestirlo cioè parliamo di gestione anticipata di tesoreria che è quello che voi fate un po' con il foglio di Excel però qua i dati li ho sempre pronti quindi mi concentro su questo tipo di lavoro controllo dove ho la criticità intervengo preventivamente a risolvere se ti può inserire i piedi però in banca conti unici assolutamente sì assolutamente sì dice il 30 nel capito esatto se guardiamo ad esempio proprio questa banca la prima banca Banco San Geminiano io ho una prima riga che è il portafoglio castelletto di 800 adesso non so se vedete i numeri comunque la prima colonna mi dice quali sono gli affidamenti quindi qua ho un castelletto di 800 mila euro più un fido di conto corrente di 200 mila ma in realtà qua vedo che il portafoglio presentato è di 600 616 ho un saldo previsto di 368 quindi la mia disponibilità la riga verde è la disponibilità è di 248 mila euro cioè la differenza tra portafoglio presentato col conto unico e saldo previsto del conto corrente il saldo è evidenziato in giallo perché mi dice sono negativo ma coperto dal portafoglio diventa arancione quando il portafoglio non è più sufficiente per coprire il mio utilizzo ma vado a usare il fido di cassa e qua è rosso quando non basta neanche il fido quindi questa è proprio l'evidenza sto usando il portafoglio fin qua poi il portafoglio scade ma comunque altri pagamenti vado in utilizzo del fido vado fuori qua ad esempio questo c'è uno spreco perché su queste banche ho un saldo negativo coperto dal portafoglio e qua addirittura invece un saldo attivo infatti non si colora quindi il saldo attivo effettivamente è uno spreco se voglio vedere anche questo spreco cioè cliccando sulla colonna vedo che a fianco di ognuno di questi importi mi viene indicato anche il tasso quindi che vedo che qua dove ho 540.000 euro di liquidi sul conto mi danno lo 0,025 mentre qua che ok sono coperta dal portafoglio però sto pagando il 5,3 quindi c'è uno spreco no? ecco quindi volendo io potrei ottimizzare la situazione anche quando sono all'interno dei fidi cioè il programma mi permette di fare anche delle simulazioni dei calcoli e anche poi di fare effettivamente i giroconti per vedere se questa situazione si può ottimizzare io parto da una situazione che comporta oneri per 266 euro potrei risparmiare 100 euro ottimizzando i saldi cioè anche con un click cioè nel senso che mi dice se io miglioro il mio utilizzo dei saldi porto a 0 questa banca a 0 questa a 0 a 0 questa a 0 questa qua porto dove ho va a ripartire dove i tassi sono migliori e potrei risparmiare 100 euro chiaramente poi ci sono tutti dei ragionamenti magari ottimizzo oggi poi domani non fa bisogno però ecco la gestione noi istruiamo proprio gli utenti anche a creare un rapporto diverso con le banche spesso troviamo situazioni dove una banca fa in un modo di una banca fa in un altro e sì c'è a volte un l'utente non è del tutto consapevole che quella stessa banca che ha un comportamento con quell'azienda con un'altra azienda può gestire il portofoglio in un modo diverso e quindi noi invece diciamo guarda che tutte le banche ti possono fare il conto unico non solo la banca 1, 2, 3 oppure insomma quindi spingiamo sicuramente per evitare questi per fare in modo che poi ci sia la possibilità di ottimizzare i saldi poi chiaro quando c'è una situazione critica come questa col girofondo si possono fare i girofondi il programma poi propone proprio quelli da fare non può intervenire simulare modificare alla fine creiamo il girofondo creo il girofondo lo firmo lo mando in banca l'ho già registrato non devo fare nient'altro ehm tassi anche il comportamento di tassi si esatto esatto in base proprio alla disponibilità di affidamento e al tasso disponibile tassi che sono ovviamente riportati sui rapporti bancari con tutte le condizioni le so cioè il nostro obiettivo di usare i tassi nell'ottimizzazione ma anche poi di fare tutti i calcoli quando è il momento di ottenere di ricevere la debito perché anche qua la possibilità di per scalare calcoliamo esattamente come fa la banca i numeri i saldi c'è il controllo della disponibilità di portafoglio in base adesso qua sono saldi attivi prendo un'altra banca a vedere se ho banco scalare vediamo questo su questa banca dove ho 10 euro di interessi attivi su cui mi applicano pur la ritenuta e 3.800 euro di interessi passivi è perché vedo che praticamente ho avuto alcuni giorni numeri saldi attivi con lo 0,15 e gli altri giorni dove avevo un saldo negativo coperto però dal portafoglio però a quest'epoca vabbè sono dati di 10 anni fa avevo un 6,4 di tasso tassi che possono essere gestiti a partite che possono essere variabili legate all'Uribor cioè l'obiettivo è avere proprio un dettaglio preciso di quello che fa la banca e a debito controllo delle spese trimestrali perché contiamo le righe e quindi in base alle righe vengono applicate le spese dell'estrato conto più spese fisse eccetera e poi le commissioni sugli affidamenti perché anche queste incidono anche quelle quindi calcoliamo anche le commissioni sugli affidamenti in modo da avere alla fine un un dettaglio preciso di quello che ci addebita la banca e tutti questi dati vengono anche memorizzati per ottenere poi delle statistiche adesso vado a vedere queste banche l'ultimo anno quanto speso qual è stato il tasso medio questo è stato l'utilizzo medio la disponibilità cioè tutti i valori che poi a livello statistico possono essere messi insieme sia i costi delle operazioni quanto speso sulle riba quanto speso sui bonifici per singola banca quindi tanti dati che poi vengono elaborati nelle nostre statistiche ma si parte dal controllo quotidiano poi dopo un po' ecco di solito le statistiche dopo qualche mese dell'utilizzo di Dockfine se uno comincia ad andare a vedere l'andamento all'inizio o più e impostare tutto bene per avere più controlli possibili sto tralasciando qualcosa di vabbè la posizione finanziaria netta che è questa si aggiungo solo una cosa più logistica che i progetti Dockfinance non hanno necessità di partire ad inizio anno per esempio come un cambio contabile perché i nostri clienti partono in qualsiasi parte del qualsiasi mese perché poi ricostruiamo lì il saldo importiamo lo scadenzario e possiamo partire a dicembre a gennaio a febbraio non è non è un problema il periodo una parentesi sì anche per allora teoricamente sì allora i movimenti vecchi dipende che ma di solito gli on banking però uno dice parto d'aprile voglio ricostruire da inizio anno e quindi vado a scaricare tutti i movimenti dall'on banking dall'1-1 dopo l'idea è ma li voglio registrare tutti o li voglio buttare dentro con degli automatismi per avere più o meno una stima di quelle che sono perché comunque non vado da bene le fatture sono già chiuse le registrazioni sono già fatte per le statistiche le registrazioni sono già state fatte sull'anno si può si può fare sì sì per andare a negoziare allora voglio vedere quanti bonifici ho fatto allora lì bisogna si può si possono caricare le varie distinte si può c'è un lavoro in più da fare se si vuole recuperare il progresso perché non è che se le distinte le ho fatte direttamente non becchi magari nei vari on becchi sparsi devo recuperare e passare le endofine so che stanno aumentando c'è stato il periodo dello zero e adesso infatti ci sono a questo proposito le statistiche di lavoro bancario dove dico che è il lavoro con sei banche in questo trimestre ho disposto bonifici e questi bonifici con questa banca mi sono costati tanto con questa banca queste si possono ordinare le banche per economicità e questo report proprio lo usano i clienti per andare a parlare con le banche e lui diceva recuperarlo dal tasso dell'anno qualcuno l'ha fatto si può fare la risposta è si può fare però bisogna poi recuperare quei dati lì inserire c'è un manuale esatto da quando parto so che quei dati sono aggiornati anche le condizioni sono le ultime le condizioni delle operazioni sono le ultime che le banche mi hanno comunicato dall'ultimo documento di sintesi ho un punto zero da lì parto e inserisco il tutto adesso qua sta elaborando un'altra statistica la adesso intanto lasciamo andare che tanto è la i vari i vari diciamo le varie tabelle che si ottengono a parte che sono tutte esportabili su Excel se uno si vuole fare un prospettino e poi comunque abbiamo la possibilità di visualizzare i dati in in vari modi proprio perché a seconda del tipo di analisi che uno in quel momento deve verificare prego si 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 lo fa con l'altro programma lo fa il programma docredit lo fa il programma docredit che ho dei potretti noi lo facciamo noi abbiamo 4.000 clienti noi dieci giorni prima notifichiamo la scadenza diciamo caro cliente ti ricordo che tra dieci giorni hai questa fattura o queste fatture da pagare o anche le riba lo fa anche c'è nel tempo lo fa capire esatto che cosa si vuole fare cioè il programma docredit serve per la gestione dei solleciti e tutto da parentesi scusate perché è collegato da remoto è stato chiesto se si possono inviarle notifiche ai clienti di scadenza cioè dieci giorni prima della scadenza comunicare al cliente che ci sono fatture da pagare e giustamente stanno dicendo che si può fare da doc docfinance non è lo strumento per fare questo perché invece tutta la gestione del credit eventualmente si fa con l'altro programma docredit ma questo tipo di avviso lo può fare tranquillamente ad hoc quindi non c'è bisogno di prendere docredit per inviare questa notifica la sicurezza ovvero c'è un momento in cui si comunica con le svere banca allora con la banca allora mi chiedono il livello di sicurezza il livello di sicurezza di questo strumento soprattutto nel collegamento con le banche allora premessa il programma non è web quindi è molto più sicuro di qualsiasi altro strumento web che mettono adesso a disposizione le banche tant'è che le banche da quando hanno spinto le aziende a usare il web ma poi si sono resi conto che ci sono attacchi da tutte le parti quindi hanno dovuto creare tutti quei livelli di sicurezza con l'OTP con i vari sms token eccetera perché nel momento in cui si è nel web tutto può accadere mentre si è collegati docfinance non è web quindi quando voi siete operate in docfinance non siete online solo nel momento in cui ipotizzando ad esempio di usare questo docfinance anche come un bank se usiamo un altro un bank nessun problema una volta che abbiamo inviato le distinte all'onbank dopo la sicurezza è quella dell'onbank che voi usate se usiamo docfinance anche come un bank quindi inviamo le distinte direttamente da qua come avviene prima di tutto nel momento in cui vengono firmate le distinte le distinte in quel momento vengono criptate viene creato un file criptato che verrà trasmesso a quel punto via web attraverso la connessione ma viene inviato un file criptato che non è possibile se non dalla società che lo dalla banca che lo riceve elaborarlo quindi nessuno si può entromettere ad aggiungere modificare quello che stiamo trasmettendo e dall'altra parte quindi e non ci colleghiamo mai direttamente sui nostri conti quindi non c'è il problema della sicurezza mai avuto problemi è solo una sicurezza vostra interna se io lascio aperto il programma con il bigliettino sopra della mia password magari qualcuno passa di lì e si fa un bonifico però se 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 però eh si esatto è mai successo mai successo perché comunque nel momento in cui si firma si firma la distinta l'utente che ha la firma ha anche un proprio certificato che è legato all'utente che può memorizzare sul proprio pc qualcuno lo usava su una chiavetta e quindi lì uno dice io solo io ho la firma e se uno non usa la mia chiavetta non va da nessuna parte capito però spesso vedo che lo salvano direttamente sul sul pc per non portarsi la chiave o fanno in altro modo ma però poi c'è una passo c'è la passo dell'utente che firma cioè non basta cliccare qua ma dopo c'è una passo che è personale e poi con l'onbanking integrato c'è anche la possibilità di impostare la firma tipo un utente può firmare fino a un determinato importo lo stesso che quando supero l'importo ho bisogno della doppia firma insomma tutte le varie la sicurezza interna diciamo sicurezza del proprio staff no anche una garanzia per per l'utente stesso che dice senti io non mi assumo cioè io l'ho preparata metto il bollino che l'ho preparata io poi chi l'autorizza cioè perché alla fine c'è proprio la storia delle distinte firmate da chi sono firmate quando sono state cioè c'è tutta la tracciabilità di chi ha preparato la distinte e chi l'ha firmata e quando è stato inviato in banca devo dire che abbiamo clienti che apprezzano proprio il nostro home banking perché lo reputano più cioè si sentono più tranquilli usare dopo allora noi allora è un unico software un software gestito da noi l'unica cosa che il kit alla fine viene assegnato un kit di sicurezza per criptare e per decriptare che viene fornito dalla banca che ci fa che ci appoggia in questo che è questa banca qua Credem e quindi c'è un servizio da pagare alla banca Credem servizio di home banking cioè il software è questo poi se si attiva questo servizio il Credem manda un kit lo manda direttamente all'amministratore dell'azienda che poi viene usato dai nostri consulini i nostri installatori per attivare quindi nel momento in cui l'azienda ha sull'utente amministratore quello che può firmare ci sono queste chiavi come funziona tutto il funzionamento di Doc Finance è Doc Finance siamo noi cioè che sviluppiamo e il Credem ci commissiona le modifiche cioè siamo facciamo come da software house del Credem per questa parte qua perché esistono anche aziende che hanno questo home banking senza avere la tesoreria cioè funziona anche solo come home banking il funzionamento è così il Credem non è tanto il Credem come banca ma è la società che si chiama CredemTel che è una società che appartiene al gruppo credito emiliano che fa da diciamo connettore tra Doc Finance e il sistema bancario quindi quando noi inviamo le distinte arrivano al CredemTel la struttura che è una struttura molto sicura perché è di fatto di una banca e che poi invia le distinte alle varie banche quindi c'è questo passaggio è un servizio che è il Credem di un canone che comunque oggi pagano all'altro un banking un banking che vende la stessa logica cioè o le pagate anche in banca esatto è semplicemente questo esatto arrivederci la cosa interessante è che non bisogna essere correntisti Credem come ho detto all'inizio anche se non si ha il conto col Credem ma si può comunque attivare perché appunto il Credentel fa da da ponte è una storia molto semplice noi siamo di Reggio Emilia perché Dog Finance cioè nasce la società poi abbiamo dieci sedi ma la direzione il centro è a Reggio Credem è una banca di Reggio amicizie personale di due persone di vent'anni fa che hanno deciso di fare questa cosa insieme insieme nel senso in collaborazione funziona è una struttura snella al Credentel quindi se abbiamo bisogno di modificare semplificare qualcosa ci parliamo direttamente chiaramente a noi piacciono anche tutte le altre banche però parlare con BNL ad esempio ci aveva impiegato tre anni con non dico quante riunioni giù a Roma per ottenere un accrocchio che non funziona come questo perché l'hanno fatto anche loro quindi quindi qua noi sappiamo che è un servizio che funziona zero problemi le altre banche abbiamo realizzato tutta una serie di collegamenti perché ci sono noi siamo aperti a tutte le banche con alcune banche non riusciamo neanche a parlare con altre perché non ci non ci considerano altre ci hanno cercato BNL ad esempio ci ha cercato voleva integrare Doc Finance con tre anni giusto? perché noi facciamo il pezzettino loro dovevano fare il loro pezzettino e non non è mi gratis non si parla mai però vedete ci sono collegamenti Uniweb ICB cioè vari vari collegamenti già pronti funzionano bene insomma però qua è 25 anni che funziona zero problema cioè cambia la versione cambia tutto ma qua siamo tranquilli per questo ci sentiamo di consigliarlo però ripeto non è non è un discorso di banca di istituto cioè abbiamo sì sì adesso attacchiamo anche noi sì sì perché sono mezzogiorno sì vedete che si va avanti va bene sì Enrica scusi mi ero mi ero distratto un attimo in effetti stiamo andando oltre esatto ai tempi che avevamo detto quindi se non ci sono domande ovviamente tutti i dubbi che possono avere tutte le persone presenti qua o collegate da remoto li possiamo anche approfondire con incontri uno a uno con delle call mirate cioè noi siamo insomma quindi l'obiettivo di oggi era farvi capire far capire le potenzialità del programma le possibilità che ci sono bene o male dà vantaggio alla totalità di aziende indipendentemente dal tipo cioè qualche vantaggio spero che l'abbiano colto un po' tutti poi chiaramente si può approfondire caso per caso noi siamo a disposizione di attenzione